Ciao e benvenuto su Google Junior Training Series. Io sono Ana Di Evangelista di G&G Italia e sono qui per mostrarti come gestire più account Google. Step 1. Vai sull'icona del tuo account Google in alto a destra e vedi quanti account hanno eseguito l'accesso. Clicca su Esci da tutti gli account. Step 2. Ora accedi al browser Chrome e clicca sull'icona nell'angolo in alto a destra. Seleziona Aggiungi. Step 3. Scrivi un nome. Scegli un'icona e seleziona Aggiungi. Ora si aprirà una nuova finestra. Puoi accedere al tuo account. Step 4. Ora sei connesso. Per cambiare account, torna sull'icona del browser Chrome e scegli l'account su cui vuoi essere connesso. Avrai una finestra per ogni account. Ciò ti permetterà di evitare qualsiasi problema. Grazie per la visione e non perdere gli altri video di Google Union Training Series. A presto. Ciao. Ciò ti aiuterà ad evitare dei problemi. Grazie per avervi shoulders. Grazie per avervi expressi. ... ...